E' per noi un piacere essere presenti a questa fiera, per noi è la prima volta e già stiamo avendo degli ottimi risultati. Tutto nasce dal caffè, in quanto il nostro è un franchising di caffetteria, poi abbiamo inserito diversi altri format basati sul gelato, lo yogurt e la pasta italiana. Abbiamo quattro concetti quindi, il format coffee and cake, il format ice cream and yogurt e il format italian pasta. Diverse persone che sono interessate al nostro brand, il nostro brand è al 100% made in Italy. Esaltiamo la qualità del prodotto e portiamo il nostro modo di rappresentare col gusto italiano in tutto il mondo e anche qua a Dubai. Le persone che hanno fatto visita al nostro stand sono degli imprenditori che hanno diverse aziende e vogliono diversificare il loro business, sia per l'acquisto di un master franchising che come affiliati. Siamo contenti di essere anche noi presenti con il nostro marchio Bacio Nero qui a Dubai e sicuramente ci vedremo alla prossima. Grazie 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 Grazie